Rinaldi e Sommella, sinteticamente, dobbiamo preoccuparci o no? A mio avviso dovremmo preoccuparci nella misura in cui Moody's ha redatto questo tipo di declassamento. Perché se noi andiamo a vedere, e sono dei dati abbastanza facili da reperire, è che l'Italia negli ultimi 27 anni ha avuto un avanzo primario, e lo sappiamo a nostre spese, cioè a nostre tasche. Ha un ottimo export, perché siamo con surplus di 50 miliardi, ha un risparmio privato fra i più elevati del mondo. E questo ce lo riconosce però. Due terzi del debito di fatto sono detenuti all'interno, non all'esterno, e il debito privato, questo è un elemento estremamente importante, in Italia è particolarmente contenuto rispetto agli altri paesi. Non voglio fare il caso della Francia, dove il debito privato sappiamo bene dove è arrivato. Ora, la Moody's, perlomeno da quello che ho potuto leggere fino ad ora, si basa molto sul rapporto, cioè sulla bocciatura dell'ufficio parlamentare del bilancio, perché questo è stato messo nella giustificazione. In Italia ci si fila poco, ma ricordiamo che è un obbligo europeo. Sì, è un obbligo previsto dal fiscal compact, che ancora è in un limbo, perché ricordiamo brevemente, il fiscal compact non è nient'altro che un accordo intergovernativo, quindi non trattato, che sarebbe dovuto, e quindi non fa parte del corpus dei trattati su cui si basa l'Unione Europea, poi qui c'è l'amico Roberto Sommella, che è un maestro in questo, e sarebbe dovuto essere inserito nel corpus dei trattati dopo cinque anni. Gli cinque anni sono scaduti, ma non è stato ancora inserito. Per ritornare all'ufficio parlamentare del bilancio, sappiamo che nel recentissimo passato ha fatto la stessa cosa, però non ha sollecitato le ire di Moody's. Poi, altra considerazione, mi sembra, non vorrei dire un'eresia, ma in questo momento noi abbiamo esattamente lo stesso giudizio di credito del Portogallo, cioè l'Italia come il Portogallo. Il Portogallo gode di un spread... Però noi abbiamo Ronaldo. Sì, però l'abbiamo preso. L'abbiamo preso. L'abbiamo preso della squadra. Ronaldo l'abbiamo preso. No, però ricordo che a ieri sera lo spread con gli omologhi tedeschi e i BTP italiani era 3,14, 3,15, mentre invece degli omologhi portoghesi era 1,5, nonostante ci sia lo stesso. Quindi c'è. Per concludere dico, se tutta l'Europa si rimette a posto, diciamo, questa frattura con l'Europa, abbassando dal 2,4 al 2,1, perché così si sta leggendo, diciamo, i più accreditati osservatori, io mi domando, ma per 5 miliardi si sta facendo, perché la differenza è di 4-5 miliardi, si sta facendo tutto questo? Cioè, io mi sto preoccupando se l'Europa pensa che si risolve tutto con questo. Allora c'è qualche altra motivazione? Molto probabilmente io penso che la motivazione sia questa. In Europa c'è effettivamente una preoccupazione che se dovesse funzionare questa nuova ricetta, cioè non puntiamo più sull'austerity, ma tentiamo di fare un qualche cosa per la crescita, possa essere un qualcosa di positivo e poi gli altri paesi sono titolati a farlo. Questo è il vero problema. Come dire, fino ad adesso avete sbagliato, seguendo altre vie invece c'è la crescita. Questo è il vero problema a mio avviso. Roberto, dobbiamo preoccuparci? No, sì, certo, proprio tranquilli no. Io credo che bisogna avere una grande consapevolezza che in questo momento l'Unione Europea e quindi con essa l'Italia è il centro di un grande scontro geopolitico che dura più o meno da 10 anni, che è iniziato con la crisi finanziaria e che vede in mezzo all'Unione Europea uno scontro tra le vecchie aree di influenza, Stati Uniti e Russia. In questo momento qualsiasi fattore di destabilizzazione dell'area euro e quindi al centro con l'Italia, che è un paese fondatore, non proprio un paese marginale, può portare non solo destabilizzazione sui mercati finanziari a danno dell'Italia per il grande debito pubblico che ha, ma porta una decisiva a questo punto destabilizzazione dell'area euro e dell'Unione Europea. Cioè non vorrei che, come è accaduto nel 2011, per colpire l'Unione Europea e l'Eurozona si colpisca l'Italia. Detto questo, sicuramente l'Italia può migliorare la manovra di bilancio e evidentemente non può essere qualche decimale responsabile di una serie di eventi però comunque negativi, perché al taglio del rating di Moody's, che ci porta un gradino poco sopra addirittura il livello di debito spazzatura, tutto si può dire dell'Italia, ma io l'ho sempre sostenuto e scritto tante volte, in dieci anni l'Italia non ha mai fatto nulla per migliorare questo rating. L'Italia ha sempre pagato il suo debito, ha sempre pagato gli interessi, fin da quando erano a doppia cifra. Non come altri, eppure noi siamo sempre lì su un livello, noi dobbiamo fare le battaglie quando non siamo soggetti a riprimende per alzare il rating, è impossibile che la Francia abbia la doppia A e l'Italia la tripla B in certi casi, perché sono quattro le agenzie di rating, questo discorso lo facciamo dal 2008, ma soprattutto bisogna evitare che alla giusta battaglia, io trovo, da europeista che si è fatta per modificare l'austerity e modificare i principi del fiscal compact, che sostanzialmente è una normativa, è un accordo internazionale tra paesi europei per ridurre il debito, si aggiunga maggiore austerity, però non deve tramutarsi in una battaglia con la Commissione europea che dia l'idea che l'Italia voglia uscire dall'Unione europea e dall'euro, perché questo sarebbe terribile per l'Italia, ma per tutta l'Europa che comunque mantiene il mercato unico, che è il più ricco mercato del mondo, cioè noi abbiamo una ricchezza che è quella, la dobbiamo preservare, l'Italia deve essere molto consapevole, tutti i governanti italiani devono essere molto consapevoli che un conto essere contro l'austerity e voler fare le proprie battaglie sovraniste, populiste, chiamiamole come ci pare, è un conto e dare l'idea al mondo che l'Italia vuole uscire dall'euro, l'Italia, ripeto, con tutto il bene che voglio, non è Malta, non è Cipro, è l'Italia e quindi esce l'Italia a fine dell'Europa. Questa opzione però dei mercati, scusate, non è neanche lontanamente presa in considerazione, altrimenti lo spread non starebbe, scusate, a 3,15, ma a 3,000 sarebbe, questa è da precisare. Manteniamo l'autoslab, cioè il giudizio è stabile, attenzione però potrebbe cambiare se date un'idea di una cosa però siamo perfettamente certi che fino ad ora, e sono diversi anni, molti anni, seguendo le ricette approvate dall'Unione Europea, tutto questo non è avvenuto, quindi è giusto che si faccia in qualche altro modo, questo è un po' il paradigma di questo governo, poi le vorrei ricordare per quanto riguarda la sostenibilità del debito pubblico, si valuta nella misura in cui si riesce a garantire due cose, primo il pagamento degli interessi e credo che con gli avanzi primari dell'Italia siamo i campioni del mondo nel riuscire a garantire il rimborso degli interessi in maniera regolare, ovvero è stato prima giustamente detto da Roberto Sommella, noi abbiamo sempre ripagato i nostri interessi al contrario magari di qualcuno che ci rimbrotta che non l'ha fatto, non facciamo nomi, ma anche la Germania sappiamo che nel suo passato non li ha ripagati, quindi questo è sempre tra le due guerre la intende? No, no, anche dopo, anche dopo, 27 febbraio del 53 trattato di Londra, poi non voglio andare troppo a uno specifico. C'è chi ha scritto volumi su questo. Esatto, bravissimo. Dopodiché vorrei anche ricordare che l'altra cosa importante di sostenibilità è la capacità di poter rinnovare le scadenze e se le vai a vedere tutte le aste, anche quella di pochi giorni fa, c'è una domanda nettamente superiore all'offerta del tesoro, quindi del fabbisogno. Quindi vuol dire che ci sono degli investitori che ancora credono nei nostri titoli, se no non correrebbero, ha capito? Magari sarebbe da modificare il meccanismo d'asta magari per avere, diciamo, qualche interesse un pochino più basso, ma quello è un altro discorso. Però guardi, la sostenibilità, i mercati, mi permetto di dirlo a ragion veduta, avviene su questi due parametri. Nessuno al mondo ha mai rimborsato completamente dai tempi degli assiro babilonesi il proprio debito, cioè non è che uno ha detto, io rimborso il debito, sono rimasto a zero, bravo. Nessuno, io lo posso garantire, e neanche nessuno ha questo tipo di volontà. Allora, prima di passare a ciò che non so se Valentina vuoi replicare, oppure... Posso rispondere? Certo, è sintetica, ti prego, grazie. Allora, sul fatto che le manovre non abbiano funzionato in precedenza, a parte si può argomentare su cosa si può dire, su cosa non ha funzionato, ora l'Italia è in crescita, è in crescita molto sta diminuendo, però questo non basta per dire che la manovra di bilancio creerà crescita quando in tutti i modelli questo non abbia l'aumento dell'incertezza sull'Italia andrà a pesare su quanto l'Italia pagherà di interesse sul debito pubblico. Non ricordo se è proprio il Financial Times che ieri ha pubblicato delle mail interne di un'agenzia di rating dicendo che loro stessi ammettono di non essere in grado di capire la storia della mucca, vabbè, perché la realtà è complessa per tutti, anche per le agenzie di rating, che poi alla fine valutano sulla base di quello che dicono i governanti e di quello che scrivono, è per questo che i toni si devono abbassare, perché magari tu hai fatto una cosa giusta ma la spieghi in modo sbagliato, quelli guardano soltanto quello che hai spiegato e ti declassano, perché non è che dietro ci stanno chissà che cosa, eh, le agenzie di rating. Però è vero che, e me lo ricordo benissimo e lo sanno tutti, che Lehman Brothers, una delle più grandi banche americane, prima di fallire aveva la tripla A e l'Italia già allora aveva la tripla B. Lehman Brothers non c'è più e l'Italia sta qui. Allora facciamo però un attimo, mettiamo da parte questo tema perché ci porterebbe lontano, mi sembra quello che ho detto di aver spiegato come funziona. Pensate che l'Italia in 10 anni ha pagato 700 miliardi di euro di interessi, mi sembra che sia un ottimo pagatore, la crescita c'è soprattutto per chi incassa questi interessi. Il mio ragionamento è che l'Italia è il primo paese ad avere necessità di ridurre il debito, per il semplice motivo che se ogni anno devi pagare 70 miliardi di interessi, hai 70 miliardi in meno per le politiche economiche, per ridurre le tasse, anche per aumentare le spese, per mettere a posto il tetto delle scuole, per aprire nuovi ospedali, per aprire nuovi carceri che sono in una condizione spaventosa. Quindi il primo interesse dell'Italia, di qualsiasi governo italiano, giallo, verde, azzurro, rosso, è tagliare il debito, perché tagliando il debito si dà, con la crescita, ma anche facendo una grande analisi del patrimonio dello Stato dormiente, e ne ha parlato spesso anche Paolo Savona, perché abbiamo un patrimonio immobiliare, immobiliare, fatta a eccezione di tutte le partecipazioni statali, intorno ai 400 miliardi di euro, che è in sonno, perché non è messo a reddito, andrebbe fatta una due diligence, valutato quanto vale, e poi dismesso per quello che si può dismettere, messo a reddito. Condivido. Lo vedranno i miei nipoti. E che, insomma, io sono ottimista, per essere europeista sono ottimista di natura, però diciamo che abbiamo questa possibilità di farlo, abbiamo le forze, abbiamo le intelligenze, usiamole e soprattutto abbassiamo i toni, perché mi sembra che siamo arrivati a un punto di scontro stile guerra fredda, in cui non conviene né alla Commissione... europeista, né all'Italia... Ne conviene, non ti riconosci in questa governanza europea, questo ne sono convinto. Allora, io voglio dire, ecco, io... Cioè, un conto essere europeista, un conto essere... Ecco, questo lo voglio spiegare bene. Io sono convintamente europeista, perché credo che l'Unione Europea, nata nel 1957, sia un grandissimo successo, perché ha portato 70 anni di pace e ha unito due emisferi, ha messo insieme i paesi dell'area dell'ex Unione Sovietica con i paesi dell'area NATO e per tanti versi, questa Unione non piace per questo. E nell'Unione Europea, il mercato unico più ricco del mondo, vengono rispettati di più che nel resto del mondo i diritti politici, i diritti religiosi, i diritti umani. Quindi questo è un successo e non discuto su questo. Però la costruzione economica è stata evidentemente sbagliata, perché se in dieci anni gli unici paesi che sono rimasti indietro, la Grecia e l'Italia, tutti gli altri sono cresciuti, evidentemente c'è una costruzione delle regole contabili che praticamente non permette la crescita, perché sinceramente qualcosa non è tornato. Se crescono i paesi dell'est Europa, quelli che non hanno l'euro il doppio di quelli che hanno l'euro. Lillian, se lei si trova a Londra, in Inghilterra, ma secondo lei tutti i dati macroeconomici inglesi che sono sicuramente migliori di quelli italiani, sono stati raggiunti, perseguiti con politiche di austerity in stile europeo, oppure perseguendo invece un modello a cui adesso l'Italia vorrebbe riferirsi, le dico sinceramente la seconda ipotesi. In Italia bisogna ritornare a ragionare con un pensiero chenesiano, capito? Solo in questa maniera, con una presenza anche dello Stato, con una ridistribuzione del reddito, altrimenti noi non possiamo crescere. Diritto di Riapplica a Valentina. Se ne faccio una ragione. Valentina, non so se vuoi replicare, se no vado al nostro... Certamente voglio replicare, però ritorno sullo stesso punto. Il punto è che l'Italia faccia delle politiche cannesiane e inneschi la crescita. Il punto fondamentale dei investitori, di analisti, è che questa crescita non è prevista come risultato da queste politiche. Se è questo, come dire, l'invita, questo non toglie che non è prevista con questo bilancio e quindi è importante che il bilancio miri a un obiettivo di crescita realistico. Allora, voglio ricordare che la Gran Bretagna, l'accordo siglato da David Cameron per restare l'Unione Europea, è meglio dell'accordo che ha siglato Teresa May per uscire. Quindi già qua interroghiamoci se sono così funzionanti le regole europee perché la Gran Bretagna vuole uscire. Dopodiché, la Francia, il debito PIL è passato dal 63 al 96% negli ultimi dieci anni e la disoccupazione è raddoppiata. Stessa cosa per la Spagna che a dispetto dei 52 miliardi di aiuti che ha avuto, il suo debito PIL è passato dal 36 al 96%. La Germania è l'unica che ha guadagnato. Quando parte la musica, la Germania in dieci anni ha mantenuto il debito al 64% ma ha guadagnato mille miliardi di euro dallo spread, due miliardi soltanto la Bundesbank dal quantità di vising e persino dal salvataggio della Grecia ha guadagnato 2,9 miliardi di euro. Queste sono le cifre e questo significa che bisogna cambiare qualcosa.